benvenuti su cuori di tenebre true crimes sono claudia oggi vi porto un nuovo caso di cronaca nera giapponese le notizie che sentirete in questo video le ho prese sia da internet che da alcuni video youtube e come sempre non essendoci articoli di giornale eccetera questi video e queste fonti alle volte portano delle notizie discordanti oppure che alcune sono a favore o altre contro la parte in causa cercherò di darvi un ritratto il più possibile coerente di dei caratteri delle persone involte e della loro storia quindi inizio subito a presentarvi i protagonisti di questo caso che sono kawaguchi kaori di 28 anni e mitsuhashi yusuke di 26 anni allora mitsuhashi yusuke era laureato in legge e stava studiando per l'esame di abilitazione nel mentre lavorava come part time baito insomma presso uno studio legale dove però aveva solamente uno stipendio di 150 mila yen al mese e quindi praticamente non riusciva ad affittare un appartamento e viveva una volta da un amico una volta dall'altro insomma girava un po tutti gli amici e stava per un periodo lì c'era anche scritto che non aveva i soldi per pagarsi il l'abbonamento per i mezzi ma qui di solito anche se hai un arbeit o un part time te lo dovrebbe pagare la ditta mi sembra molto strano ad ogni modo lui aveva anche dei debiti per 3 milioni di yen di cui era molto imbarazzato e questi erano dovuti alle spese universitarie le spese che aveva sostenuto probabilmente non era stato molto pulato nella nell'uso delle credit card la donna invece kawauchi kaori era una donna diciamo che vestiva sempre con di marca aveva affittato una mansion a yoyogi park e niente dava questa impressione appunto di essere una persona di elite una persona ricca insomma e in realtà diciamo che era un po un'illusione lei dopo essersi laureata ha fatto diverse cose e diceva di essere impiegata alla maru beni che è una grossissima multinazionale giapponese che ha sedi di diverse parti del mondo e si occupa di business di trasporti in numerosissimi campi lei diceva appunto di essere impiegata alla maru beni e lo scriveva anche nel curriculum che era impiegata lì da quando aveva finito l'università anche se lei aveva in realtà solo un contratto a breve termine sapete quei contratti determinati che poi dopo finiti basta era stata anche arrestata perché appunto amava questi beni di russo e ogni tanto li rubava e tuttavia appunto sembrava fosse appunto una ragazza ricca in realtà quando andava all'università riceveva 400.000 yen al mese dai genitori che non sono assolutamente pochi e aveva i genitori di nigata che avevano una credo una stamperia in più lei poi dopo finita all'università aveva uno sugar daddy che le passava i soldi e in più ogni tanto lavorava anche nei soap land e quindi diciamo nella prostituzione nel novembre del 2002 Kaori e Yusuke si incontreranno a Ongokon che sono quei parti dove partecipano persone nubili e celibi in cerca di un potenziale compagno per la vita e loro due si sentono subito attratte l'una dall'altra e non ci impiegano molto a mettersi insieme tanto che già dal mese dopo cioè da dicembre iniziano a convivere nell'appartamento di Kaori che era situato appunto a Yoyogi Park che è una zona dove si paga tanto di affitto e tuttavia l'appartamento era di 38 metri quadri con una camera da letto veramente minuscola dopo che ha incontrato Kaori Yusuke dirà a degli amici che questa Kaori non era come loro lei era alta era elegante era bella quindi può essere anche che in parte l'attrazione che ha provato per lei è stata forse anche diciamo la speranza di un salto sociale cioè di un gancio anche per elevarsi diciamo perché tra l'altro lui era a quanto sembra una persona ambiziosa perché lui diceva sempre io diventerò qualcuno e poi come si vedrà insomma le capacità poi per ottenere un buono stipendio le avrà effettivamente iniziano a convivere insieme e a un certo punto Kaori resta incinta al che il 3 marzo del 2003 si sposano quindi in pratica in 4 mesi si sono conosciuti sono andati a convivere e lei è rimasta incinta e si sono sposati quando Kaori è rimasta incinta a un certo punto ha iniziato a sentire la pressione di dover avere questo bambino ma soprattutto perché vedeva la situazione di instabilità finanziaria del marito cioè era preoccupata appunto del di questo lavoro che faceva e dello stipendio anche insomma tra le altre cose lei appena rimane incinta cioè smette di lavorare e vabbè che comunque la Maru Benici aveva quel contratto a termine può essere pure che le sia finito prima e quindi a un certo punto decide di interrompere la gravidanza solo che Yusuke Mitsuhashi non era d'accordo dice guarda non ti preoccupare io trovo un altro lavoro e infatti poi si trasferirà in una società immobiliare straniera dove tra l'altro poi nel tempo andrà a guadagnare anche un ottimo stipendio però lei non cambia idea e porta avanti questo aborto quindi rimasti solo loro due senza bambino e gli non potevano tranquillamente diciamo continuare la loro vita matrimoniale e magari decidere di avere un bambino più in là nel tempo quando erano diciamo più stabilizzati più sicuri tuttavia questo fatto è stato l'inizio della fine del loro rapporto e col tempo Mitsuhashi Yusuke inizia a picchiarla e lei dirà appunto di soffrire di stress post-traumatico dovuto a questa violenza domestica tuttavia gli amici comuni che ogni tanto dovevano andare lì per far fare loro pace eccetera diranno che la violenza non era solo da parte di Yusuke ma anche di Kaori che tante volte lo prendeva a calci, lo schiaffeggiava, lo colpiva lasciandogli dei lividi oppure gli prendeva l'orologio, il portafoglio, la carta di credito e lo buttava fuori dalla casa insomma ad ogni modo Kaori ogni tanto andava a casa dei genitori oppure si rivolgeva a un centro antiviolenza e magari passava delle notti presso una casa rifugio però poi dopo tornava sempre a casa cioè questi due non avevano l'intenzione di divorziare malgrado entrambe tra le altre cose avessero un amante la tragedia avverrà il 12 dicembre del 2006 quando Kaori entra in possesso di una registrazione di una conversazione fra il marito e l'amante quindi aspetta il marito che tornava dal lavoro per confrontarlo ma lui era sanco e è andato direttamente a dormire allora Kaori che fa? prende una bottiglia di vino mentre il marito dorme inizia a colpire la testa del marito con questa bottiglia finché lui praticamente muore a questo punto Kaori che aveva paura di stare nell'appartamento con il cadavere esce solo che la mattina inizia a essere bersagliata da telefonate dei colleghi di Yusuke preoccupati dal fatto che non fosse andato al lavoro e non avesse nemmeno telefonato e sul cellulare non rispondeva e addirittura un collega le chiede se può passare a casa per controllare a questo punto Kaori decide che è il momento di liberarsi del corpo e che cosa fa? va in un negozio a comprare delle valigie, dei teli di plastica, dei sacchi di plastica, delle seghe e altri attrezzi e torna a casa adagia un armadio a terra ossia invece che nella posizione verticale lo gira in posizione orizzontale e lo riempie con della terra per far sì che assorba il sangue e non sporchi il pavimento e inizia a smembrare il marito perché il marito era alto 1,80 e lei come faceva a portarlo fuori e a nascondere il corpo? quindi che fa? praticamente li taglia la testa li taglia le braccia e poi taglia il torso e rimane quindi il torso e l'altra parte del bacino con le gambe e che fa? questo riesce a farlo tutto in una giornata e tra l'altro poi si adopererà a fare dei lavori in casa cioè a pitturare lì dove magari è schizzato il sangue, a pulire eccetera eccetera quindi quando è notte fonda del secondo giorno dopo l'uccisione mette la parte superiore del corpo in una valigia prende un taxi e si dirige verso Shinjuku e sale nel taxi con la valigia a un certo punto del tragetto il tassista le ha detto dice ma io sento un odore strano era l'odore della della putrefazione e lei ormai ci era abituata e non si era resa conto quindi che fa? ferma il taxi scende e prosegue da sola con questa valigia e che fa? l'abbondona in una strada fra Shinjuku e Shibuya torna a casa e si prepara a gettare la parte inferiore del corpo questa volta però non prende il taxi cosa fa invece? prende un carrello ci mette sopra la valigia all'interno la parte inferiore del corpo del marito e inizia a camminare spingendo questo carrello solo che dopo un po' non ha più forze insomma e che cosa fa? vede una casa abbandonata lì a Shibuya e decide di buttare il tutto all'interno del giardino dopo di che il giorno seguente prende la testa che era anche siccome le mani praticamente le braccia e le mani le ha buttate nell'umido e le ha smaltite con la spazzatura in modo tale che non ci fossero le impronte digitali però è appunto la testa che non potessero rilevare dai denti o il viso ormai probabilmente si stava decomposendo però era la cosa di cui temeva di più insomma va a macita nel parco scava una buca di 30 centimetri e la sotterra lì continua poi a rimodernare la casa e che fa? manda una mail al suocero facendo finta di essere il figlio ossia Yusuke dopo di che va dalla polizia a denunciare la scomparsa del marito e quando va lì dirà che o era sparito volontariamente o era rimasto convolto in qualcosa e insomma ha cercato un po' di dare quasi una motivazione a questa scomparsa e in più dirà la polizia che quando gli hanno chiesto tipo segni particolari o qualcosa così lei ha detto che aveva una cicatrice sul torso che era il risultato di una operazione che aveva subito se non che cinque giorni dopo la polizia scopre la parte superiore del corpo in questo vicolo di Shinjuku che era diciamo abbastanza vicino a Kabukicho e essendo solo il torso senza la testa senza le braccia all'inizio la polizia ha pensato che addirittura fosse il corpo di uno straniero e che magari era rimasto imbischiato con la criminalità locale o la mafia cinese per chi di voi non lo sapesse Kabukicho è una parte di Shinjuku diciamo dove ci sono i locali a luci rosse eccetera ed è una parte malfamata di Tokyo questo spiegherebbe l'ipotesi della polizia e quando è stato scoperto il torso a parte che la polizia ha pensato che il corpo sarebbe stato più basso di quanto era l'altezza di Mitsuhashi Yusuke che era 1,80 ma non c'era nemmeno questa cicatrice dovuta a un'operazione quindi lei è stata eliminata dai sospettati tuttavia quando hanno trovato la parte inferiore del corpo e il DNA delle due parti combasciava hanno scoperto che si trattava del marito perché? perché loro avevano indagato sul fatto se effettivamente avesse subito un'operazione o meno e non risultava in più i sospetti si erano acuiti quando un collega del marito aveva visionato i filmati delle camere a circuito chiuso del palazzo dove vivevano e l'aveva visto entrare chiaramente ma poi nei giorni successivi non l'aveva visto più uscire chiaramente la polizia fa 2 più 2 e si rende conto che il marito in realtà non era scomparso bensì era successo qualcosa in quella casa e in più appunto con questa contraddizione della moglie di questo segno di istintivo sul torso era balzata a essere una dei primi sospettati tanto che è stata convocata volontariamente alla polizia dove lei si dichiarerà colpevole e inizierà a confessare sia i motivi che le modalità dell'uccisione e quindi viene arrestata nel settembre del 2007 si apre il primo processo e il punto focale era della questione diciamo era se fosse capace di intendere volere al momento del crimine lei sosterrà che non sopportava più le violenze domestiche che stava per tornare a casa dai suoi che voleva il divorzio eccetera eccetera però lei aveva anche questa registrazione di cui vi avevo parlato prima con cui voleva discutere del marito col marito ma lui è andato a dormire poi lei l'ha presa bottigliata in testa in questa conversazione il marito parlava con l'amante alla quale diceva guarda ti aiuterò nelle faccende domestiche sposiamoci facciamo un figlio cioè era chiaro che se lei avesse voluto divorziare il marito non è che avrebbe detto no non divorziamo quindi lei in pratica quando ha sentito queste cose dette dal marito e che quindi probabilmente sarebbe stato il marito a chiedere il divorzio diciamo che non era in una condizione normale diciamo psicologicamente non era in una condizione normale tuttavia dopo però lei ha commenti molto fredda ha fatto delle dichiarazioni mendaci sulla denuncia di sparizione proprio per sviare le indagini ha disposto il cadavere ha pitturato la parete fatto sparire le prove dall'appartamento quindi in questo primo processo è stata condannata a vent'anni di reclusione poi però nel giugno del 2010 c'è stata la corte di appello che le ha dato quindici anni di reclusione questo è tutto per il caso di oggi lo conoscevate? cosa pensate della decisione del tribunale della condanna se vi va potete scriverlo nei commenti io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e spero di vedervi ancora sul mio canale per un nuovo caso di cronaca nera arrivederci